Ciao, bentrovati carissimi e buona Santa Lucia, ci raccogliamo per la priera della sera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Amen. Abbiamo celebrato la Messa, oggi è stato molto bello, alle 17 a Cogno, tanti di voi sono venuti, sono stati bravi, e adesso preghiamo insieme per chiudere questa giornata così bella di festa e poi aprire la nostra busta del calendario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il titolo di oggi, giorno di Santa Lucia, è Quando ritorna la gioia. Dal libro del profeta Baruch. Io, infatti, ho sperato dall'Eterno la vostra salvezza, e una grande gioia mi è venuta dal Santo, per la misericordia che presto vi giungerà dall'Eterno vostro Salvatore. Vi ho lasciati andare con dolore e pianto, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia per sempre. Queste parole antiche ci ricordano che Dio ci raggiunge, ci avvolge, sempre con la sua misericordia. È questa la gioia vera che ci nasce nel cuore. E quale giorno più bello di quello di oggi, giorno di Santa Lucia, per essere e riconoscere un giorno di grande gioia. Vedete, il profeta Baruch, dice il nostro testo, il messaggero di oggi è felice, un po' come tutti voi, come tutti noi oggi. Ha ricevuto il dono più grande. Sapete cosa ha ricevuto Baruch? Sa che Dio sarà accanto a lui e al suo popolo. Questo è il dono, la certezza che Dio non lo abbandona, che ha compassione, che perdona i suoi errori, che è vicino, è anche vicino a me e a te e a tutti noi. Ci offre il sostegno, la sicurezza, ci assicura che gli sbagli che possiamo aver fatto non hanno l'ultima parola nella nostra vita, possiamo sempre riscattarci, purché riconosciamo che il Signore è il nostro Salvatore. Gesù viene nel mondo per portare la luce, e Lucia significa portatrice di luce, la luce della sua presenza. E vogliamo allora pregare insieme anche stasera. Grazie, Signore, dei doni di questo giorno. A volte nel corso delle mie giornate mi sembra che tutto sia buio. Faccio fatica con gli amici, mi amareggiano i rimproveri dei miei genitori. Mi accorgo che potrei fare di più, ma non riesco. Portami la tua luce e la tua grazia, perché sappia riconoscere i miei difetti e impari a vivere nella tua gioia. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ragazzi, l'impegno per domani è essere grati, avere gratitudine. Oggi abbiamo imparato questo, ricevendo i doni di Santa Lucia. Ringrazieremo Dio domani per i doni che abbiamo ricevuto oggi, ma soprattutto per i doni che qui dentro noi custodiamo. La gioia, la pace, l'amore. Ringraziamo Dio perché ce li abbiamo. Non tutti ce li hanno. E un avviso, un avviso importante, prima di lasciarci, domani è il 14 dicembre, ed è la giornata del Natale, dello sportivo. So che tanti di voi fanno calcio, pallavolo, vari sport nel nostro oratorio. E domani alle 19 c'è la messa in teatro, un luogo un po' strano ma bello, messa dello sportivo, Natale dello sportivo. E quindi ci vediamo anche per quell'occasione lì, chi è nella squadra sportiva. Quindi vi aspetto anche a questo appuntamento, oppure a questo appuntamento delle 8, come ogni sera. E adesso aprite la busta del calendario. Ciao!